Su San Giustino, questo centro, questo laboratorio politico lanciato dall'ex capo del centro-destra e da chi è stato per anni uno dei primi attori del PD riformista, può essere la vera novità? Allora, io dico che su San Giustino ovviamente, adesso vedremo a breve, sicuramente il laboratorio è interessante e direi che potrebbe essere molto interessante anche per Sansepolcro, non lo nego perché di fatto la nascita della nostra lista che poi si è associata con il centro-sinistra ma perché all'epoca non aveva la forza per restare in piedi da sola, aveva anche bisogno del primo confronto vero elettorale che ha avuto nel 2021 e che ha avuto anche un buon riscontro. Di fatto perciò questo laboratorio nato a San Giustino potrebbe essere assolutamente anche un laboratorio fruttuoso per Sansepolcro, cioè un centro delle forze riformiste, delle forze chiamiamole moderate, a me non mi piace molto questo termine, però chiamiamole così Civici liberali e riformisti Civici liberali e riformisti Potrebbe essere assolutamente un laboratorio da costruire anche perché adesso la nostra lista civica adesso riformisti, credo che le prime interlocuzioni che sta già avendo ce le avrà con i rispettivi soggetti che fanno parte di quest'area che di fatto abbraccia diverse forze che stanno all'interno del Consiglio Comunale di Sansepolcro Poi non siamo qui per mettere veti in questo momento, però di fatto è evidente che si guarda in prima battuta a chi ti assomiglia di più, no? Questo è normale Perciò direi che è un laboratorio assolutamente interessante che potremmo tranquillamente sperimentare anche a Sansepolcro Perché si parlava tanto tempo fa ma ora sarà attuale perché probabilmente prima delle elezioni che ci saranno a San Giustino ci saranno gli stati generali del centro che riguarderanno Città di Castello, San Giustino e Sansepolcro In quell'area chiaramente sarete chiamati a portare il vostro contributo però mi par di capire dai primi sondaggi che ho effettuato io io i miei sondaggi sono quando faccio la spesa o dal Martini non me ne voglio Cioè c'è voglia di centro Sansepolcro però c'è voglia di centro, mi chiede attenzione, con un candidato che sia espressione del centro Non alla destra estrema, non alla sinistra estrema sia alla destra modelata, sia alla sinistra modelata con un candidato di centro E questo il vero e nuovo passaggio degli stati generali del centro? Si cercherà di costruire un progetto comune per l'intero territorio perché poi te mi insegni chi governa e dovrà portare la viabilità alternativa al secondo ponte sul Tevere dovrà rapportarsi con chi governa la vicina San Giustino E da lì che si parte con un progetto sperando e Dio ce ne scampi i liberi che si scenda sotto la soglia dei 15.000 Non credo che per il 26, no, sennò davvero torneremo a chiamare tutti C'è un dramma Però è quello il progetto Noi si sta al centro con un nostro candidato che si gioca la partita E questo che mi è sembrato di capire Michele finalmente Il centro a San Giustino esprime il suo candidato A San Giustino è avvenuto questo L'obiettivo potrebbe essere anche a Sansepolcro E' chiaro che un candidato nasce da un dialogo e da un confronto che ancora in questo momento è iniziato in maniera tiepida perché come sai a due anni sarebbe anzi necessario iniziarlo in maniera abbastanza serrata però di fatto le vicende quotidiane molto spesso portano da altre parti Però sarebbe questo l'obiettivo Cioè è chiaro che un confronto tra forze liberali, riformiste e repubblicane chiaramente dovrebbe poter poi arrivare a individuare un candidato che possa rappresentarle Perché di fatto se no essere sempre subalterni della destra o della sinistra evidentemente gli stati generali non raggiungerebbero l'obiettivo Quindi l'obiettivo è quello di creare una classe dirigente di centro che esprime il suo candidato Certo Qualora si andrà a votare Grazie